E' la cooperativa Diaconia a farsi avanti. L'ente gestore della diocesi di Frosinone Verole Ferentino vuole ad ogni costo scongiurare la chiusura della scuola paritaria Santa Maria di Mattias di Frosinone, annunciata dalla superiore dell'ordine delle suore adoratrici del sangue di Gesù. Suor Milena Marangoni ha spiegato come lo sforzo economico non sia più sostenibile. Da qui la scelta di chiudere l'intero polo di istruzione che dal 1948 ha formato migliaia di bimbi dall'asilo nido alla scuola elementare. La scelta della chiusura della scuola ci ha veramente rattristato ed è per questo che come Diaconia, ente gestore della diocesi, ci siamo messi a disposizione per mettere in campo un progetto che potesse garantire la continuità educativa e didattica. Lo abbiamo già fatto a Ferentino con la scuola Madre Caterina Troiani, vogliamo farlo anche in questo caso perché riteniamo che sia dovere interessarsi come comunità territoriale, come attore del no profit, della continuità di questo patrimonio, del territorio, di questa provincia che va assolutamente preservato. Diaconia è assolutamente a disposizione per preservare l'interesse dei bambini, delle famiglie e anche dei valori cristiani che l'Istituto nel tempo ha diffuso. Il fattore tempo è indispensabile, per questo la Diaconia intende muoversi prima che la decisione arrivi sulla scrivania dell'ufficio scolastico provinciale. L'obiettivo della cooperativa è far sì che il futuro della scuola di Mattias venga preso in carico dall'intera comunità ciociara. È corsa contro il tempo perché dobbiamo evitare assolutamente che la comunicazione possa essere ufficializzata agli istituti scolastici competenti. Noi lo abbiamo specificato al prefetto, al sindaco di Frosinone, a tutti gli onorevoli del territorio proprio per cercare di fare in modo che questo possa diventare un progetto della comunità. Non ultimo da preservare c'è il presente di 140 studenti ed il futuro di 30 lavoratori. Sarebbe una dispersione di valore culturale e soprattutto anche occupazionale perché non dimentichiamo che ci sono 30 lavoratori che sono preoccupati con le rispettive famiglie. Dobbiamo assolutamente evitare questo, dobbiamo assolutamente evitare lo smembramento delle aule che metterebbe in difficoltà gli istituti di Frosinone, ma metterebbe in difficoltà soprattutto le famiglie e soprattutto la serenità dei bambini che devono essere messi al centro di quella che è la continuità del progetto educativo.